Come ordinare online sul sito dentsply.com Ordinare online sul sito dentsply.com è molto semplice. Una volta effettuata la registrazione ed attivato il proprio account, cliccare sul pulsante Accedi. Per selezionare il prodotto da acquistare, basta cliccare su Acquista ora. Si aprirà la pagina del carrello, dove viene mostrato il prezzo scontato. Modificare la quantità e cliccare su Aggiungi al carrello. Se al posto del pulsante Acquista ora viene visualizzato il pulsante Chiama, vuol dire che il prodotto richiesto non può essere acquistato online. In questo caso bisogna rivolgersi al proprio deposito o agente di zona. Una volta completato l'inserimento degli articoli da acquistare, sarà sufficiente cliccare su Carrello in alto a destra per vedere il riepilogo. È possibile cambiare le quantità, cancellare un prodotto cliccando su X o aggiungerlo ai preferiti cliccando sull'icona forma di stella. Il sistema mostra se il prodotto è disponibile bile presso il nostro magazzino, se è presente in quantità limitata, o se non è disponibile. Per completare l'ordine, è necessario confermare l'indirizzo di spedizione del materiale e inviare l'ordine stesso. Una volta inviato l'ordine, si riceverà una mail di conferma con il riepilogo dell'ordine. Per maggiori informazioni è possibile consultare anche lo storico ordini, presente all'interno della sezione. Il mio profilo L'ordine verrà trasmesso al nostro magazzino solo dopo la ricezione della copia del bonifico bancario anticipato, intestato a Dentspli Italia. L'ordine verrà trasmesso al nostro magazzino solo dopo la ricezione della copia del bonifico bancario anticipato, intestato a Dentspli Italia. La copia del bonifico dovrà essere inviata all'indirizzo email infoved.italia-dentspli-irona.com o diafax al numero 0672640394. Per ricevere maggiori informazioni è possibile consultare la sezione aiuto presente in tutte le pagine del sito o contattare il nostro customer service al numero verde 800310333. Per ricevere maggiori informazioni è possibile consultare la sezione aiuto a Dentspli Italia.